Un buongiorno a voi dal vostro professor Strunz. Miau miau. Titolo Dai No. Hanno investito un dai no? Dai no. Eh, se te lo sto dicendo, dai no. Ma sì, l'hanno investito stamattina? Dai no. Ma sai che quasi quasi hai ragione? Eh, dai no, lo dice la parola stessa. Ma sì, dai no, non l'hanno investito. Miau miau.